Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono Light Knight e oggi siamo qui nel nuovo episodio di Clash Royale Allora, oggi non andremo a provare questi mazzi, allora vi spiego, vorrei fare una feria delle squadre di calcio su Clash Royale Questo è l'Inter, blu, blu, nero, nero, blu, blu, nero, nero, questo è il Napoli, tutto blu e azzurro Allora, vi faccio vedere, cioè ve la faccio vedere raga perché sennò perdiamo troppo tempo Comunque, mettete like se vi è piaciuto la mia nuova intro di Minecraft Ok, guardiamo, allora questo lo ho fatto con Napoli Usate il modio sottofondo, mettiamo per due dai Ok, io ho fatto così e lui si è difeso Dopo ho messo il golem di ghiaccio e l'orda di sgherri così che il golem potesse farmi davvero poco danno Infatti me ne ha fatto pochissimo E lui intanto aveva sprecato l'otto dell'esir Io, io, avete visto, io ne avevo dieci Ok, mi ha raggiunto l'ivelo dell'esir Sgherri Scarica E lui lì Mi ha fatto un po' di danni Allora io metto l'orda di sgherri Lo spirito di ghiaccio Metto un altro spirito di ghiaccio e lì faccio la devastazione Poi lui mi mette il donatore Ma non mi fa tutti i danni ancora Allora lì era molto combattuta Sgherri, orde di sgherri Così che il golem ancora potesse farmi davvero poco danno Ok Spedito il fuoco, ho sprecato lui Io ho messo il golem di ghiaccio Un altro golem di ghiaccio Sgherri E ho vinto con la super orda di sgherri Bellissimo sta partita Ho scoperto da qui che è un mazzo competitivo E con questo ho vinto una battaglia Poi Andiamo a guardare anche questo che ho giocato con l'Inter Per due sempre Allora Qui abbiamo aspettato tutti Poi lui dovrebbe aver messo il gigante Ecco dovrebbe aver messo il gigante Super attacchissimo Lui cerca di mandare l'ordine di sgherri Per farmi un po' di danno Ma non ci riesce E lui ha sprecato le frecce Ora io ho più elisiere Sono in vantaggio Allora Poi io potrei mettere subito la fulmide Ma no L'ho messo all'ultimo Scusate non vi voglio spoilerare Ma È carino spoilerare Per me Cioè Cioè Il gusto Allora Lui ho messo la fulmide E Non l'ho Infatti Lì la fulmide Non l'ho messa nella torre dell'avversario Perché Cioè Non l'ho sprecata Per la torre dell'avversario L'ho messa al tempo Allora Ecco Lì ho ricevuto la fulmide Ho spaccato la torre dell'avversario Stavo rischiando A 144 Ragazzi Questa è combattutissima Pensa quanto È incavolato lui ancora Bellissima Battaglia tra clan Proviamo a fare una battaglia A questo basso Non so Se le altre mi rispondono Sempre Niente Ok Niente Compro un cannone Tanto per bellezza E ci vediamo nel prossimo video Ciao